Grazie a tutti. Alghero se la dovrà vedere con altre 9 finaliste il 31 gennaio e il verdetto. Nella giornata di ieri accantieramento per la ditta che eseguirà i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada dei Due Mari al Bivio per l'aeroporto. La conclusione forse entro aprile. Ricerca e monitoraggio nella grotta di Nettuno. Quest'oggi nel nostro TG parleremo dell'importante progetto portato avanti dall'Università di Urbino in collaborazione con il gruppo espeleologico Algares. Ben trovati, una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'importante giornata di oggi per Alghero nella Corsa per diventare capitale italiana della cultura del 2018. Il verdetto si conoscerà a fine mese, martedì 31 gennaio, ma oggi per la delegazione algherese c'è l'audizione a Roma. Era numerosa la delegazione che questa mattina è stata ricevuta a Roma al Ministero dei Beni Culturali per la prima delle dieci audizioni. Tante sono infatti le candidate a capitale della cultura 2018. Con il sindaco Mario Bruno a Roma c'erano l'assessore regionale alla cultura Claudia Ferino, la delegata alla cultura turismo del comune Gabriele Sposito, il segretario generale dell'ente Luca Canessa, con i dirigenti dei settori programmazione, finanze e bilancio, Salvatore Masia e Pietro Nurra, il direttore della fondazione Meta Paolo Sirena. Con loro anche i rappresentanti istituzionali della fondazione di Sardegna, Graziano Milia, Giuliani di Esadelle della Generalità di Catalunia e Filomena Cappiello, responsabile regionale dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Tanti gli spunti che Alghero ha portato a Roma nel dossier presentato al Ministero, dall'intenzione di riqualificare l'ex cotonificio al distretto della creatività, passando per il museo archeologico, la biblioteca del Mediterraneo, il teatro civico, i rapporti con i paesi catalani e le relazioni più autentiche con quelli della Sardegna e ancora tradizione, cultura, mare incontaminato, ambiente, no gastronomia, un mix vincente legato dalla lingua che ancora oggi si respira, si vive nei vicoli e nelle piazze della città vecchia. L'Algherese nel dossier non mancano in grandi eventi sportivi, artistici, musicali che portano le celibri firme dello stilista Antonio Marras e del musicista Paolo Fresu. Alghero rappresenta la candidatura di un'intera isola, ha dichiarato il sindaco Bruno prima della partenza per Roma. La Riviera del Corallo se la dovrà vedere con le altre nove finaliste, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Re Canati, Settimo Torinese, Trento e l'Unione dei Comuni e Limo e Ricini. Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di un milione di euro e l'esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Nel dossier presentato da Alghero al Ministero dei Beni Culturali per la propria candidatura c'è come detto anche il teatro civico chiuso ad alcuni mesi perché come avevamo detto anche in passato è scaduto il certificato di prevenzione incendi. Sono iniziati i lavori per mettere a norma l'antico edificio risalente alla fine dell'Ottocento, chiusura del teatro che come è stato detto anche nell'intervista di fine anno dal sindaco Bruno sulla nostra emittente non dovrebbe compromettere. La candidatura di Alghero a capitale della cultura 2018 ha comportato lo slittamento della stagione culturale che se l'impianto dovesse essere messo a norma in breve tempo inizierà a metà febbraio. In notevole ritardo rispetto ai precedenti anni dovrebbe essere sempre cedacata al proposito a proporre il cartellone di rappresentazioni. Nel frattempo il Comune dovrà anche provvedere alla sostituzione del responsabile della sicurezza andato in pensione proprio lo scorso anno. Ci fermiamo per una prima pausa. E' sicuramente un incarico delicato quello di componente del Consiglio di Amministrazioni di Sogea nominato dalla Regione perché deve fare da contrappeso e da controllore rispetto all'operato dei due nominati dall'azionista privato di maggioranza F2I del quale non conosciamo le intenzioni del futuro dell'aeroporto e il vice capogruppo di Forza Italia Marco Tedde a intervenire sulla recente nomina del componente del Consiglio di Amministrazioni di Sogea al dispettanza regionale ovvero Marco Fadda in dispregio ai buoni propositi in maniera di competenza sbandirati nel programma elettorale e alle obiettive esigenze pubbliche di controllo della gestione della più importante impresa della provincia di Sassari. L'Aggiunta regionale, denuncia l'ex sindaco di Alghero, ha nominato in tale veste un perito agrario già dipendente di Ersat dal 1992 e di Argea dal 2006 un rispettabilissimo funzionario che però è privo di quel minimo di competenza per rivestire una carica di questa importanza con un cursus honorum che certifica la bassa lottizzazione che ha condotto alla sua nomina. L'ottizzazione per lottizzazione sarebbe sicuramente stato più dignitoso e proficuo, evidenzia il consigliere regionale algherese, nominare qualche giovane esponente del centrosinistra locale che avrebbe affrontato l'impegno con adeguata passione e con non minore competenza. Un'altra scelta sbagliata sulla Sogeal che dimostra, se mai vi fosse bisogno, l'inadeguatezza delle politiche della Giunta regionale in materia di trasporti che isolano sempre di più la Sardegna e, conclude Tedde, hanno fatto mancare 330.000 passeggeri all'aeroporto di Alghero nell'ultimo anno. Cambiamo argomento, è finalmente iniziato ieri l'accantieramento per i lavori per la realizzazione della rotatoria di Ungias-Galantè per intenderci al bivio per l'aeroporto nella strada provinciale 42, quella dei due mari, più volte teatro di pericolosi incidenti. Il progetto che ha origini lontane, nel 2010, quando l'allora Giunta provinciale guidata da Alessandra Giudici individuò i finanziamenti per la realizzazione, mentre sul finire del 2013 venne approvato il progetto definitivo e qualche mese dopo, nel febbraio 2014, approvato invece quello esecutivo. Sembrava tutto pronto per il via lavori poco prima dell'estate di quello stesso anno con il completamento delle operazioni tecniche e burocratiche di aggiudicazione dei lavori in via definitiva ma per oltre circa due anni non si è saputo più nulla, sino a queste settimane, appunto con l'Iter finalmente sbloccato è il ghero che potrebbe vedere ultimata entro aprile un'opera particolarmente attesa soprattutto dagli artigiani. In merito abbiamo sentito Enrico Daga che era assessore provinciale di quella giunta, della Giunta Giudici. Attesa di vedere l'opera pronta, possiamo dire che si porta a compimento un progetto voluto dall'Aggiunta provinciale dal quale lei era assessore. Sì, per scaramanzia diciamo che è solamente l'inizio, l'azienda si è canterata, avremo qualche mese di patimento ma finalmente potremo mettere in sicurezza una viabilità che ha pregiudicato la sicurezza dei cittadini, di automobilisti, non solo dei sardi ma anche di chi viene in nave, di chi arriva dall'aeroporto, insomma un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. Possiamo dire che sono passati troppi anni rispetto a quando abbiamo preventivato l'opera. Parliamo del 2010, quando una volta avuto l'onore di sedere nei banchi della Giunta Giudici attraverso la rinicoltrazione di un mutuo abbiamo reperito le risorse per finanziare quest'opera che ha avuto una gestazione un pochino lunga, andava predisposto a un progetto che doveva essere approvato, quindi preliminare, dopodiché progetto definitivo, terzo stadio del progetto esecutivo, gara d'appalto, assegnazione e dopodiché accantinamento. Sono passati sette anni, sono troppi, però testimoniano la lentezza di una macchina burocratica non solo sarda ma nazionale che rallenta troppo spesso le nostre priorità. Un'opera particolarmente attesa dagli artigiani che avevano richiesto a più riprese di procedere con i lavori e poi c'erano stati dei problemi tra l'altro sulla competenza per la rotatoria tra ANAS e provincia. Assolutamente, abbiamo fatto valere il principio per cui la salute dei cittadini era sovraordinata rispetto alle dispute tra enti, quindi abbiamo convocato un tavolo, anche con molta energia, un tavolo in cui la provincia, in particolare l'assessorato alla viabilità e l'ANAS si sono parlati e si è deciso di consentire su strada dell'ANAS e con le risorse della provincia che si facesse quest'opera. Per quanto riguarda gli artigiani, sì, è una grande conquista, nel senso che nelle more si è sviluppata un'area artigianale, i nostri imprenditori che con i loro mezzi pesanti si mettevano in quella strada così trafficata, insomma un grande risultato che celebreremo sicuramente tra qualche mese. Ci fermiamo ancora per qualche istante. Per la giornata di domani, mercoledì 11 gennaio, a Banoa ha programmato un intervento di riparazione di pezzi speciali e saracinesche all'interno della camera di manovra in località Santimbenia. Per l'esecuzione dei lavori sarà necessario provvedere alla chiusura dell'erogazione idrica nelle borgate di Guardia Grande e Tramariglio per l'intera durata dei lavori, dalle 8 del mattino sino alle 18 circa. La ripresa dell'erogazione potrebbe essere caratterizzata come una turbidità transitoria alla prima acqua in arrivo nei rubinetti. E ora parliamo di un progetto di ricerca e monitoraggio nella grotta di Nettuno portato avanti dall'Università di Urbino che per effettuare questi studi ha chiesto la collaborazione del Gruppo Speleologico Algarese che ormai da molti anni esplora e studia le grotte dell'Algarese, le loro parti sommerse delle quali è profondo conoscitore, che parla di un importante e impegnativo progetto mai effettuato prima nel nostro territorio. È il GEA, Gruppe Speleologico Algarese, a rendere noto che l'Università di Urbino da alcuni anni sta svolgendo studi e ricerche sui principali sistemi carsici italiani. In corso vi sono progetti di ricerca incentrati sulla geologia, l'idrogeologia, la speleogenesi e il microclima sotterraneo di questi sistemi. Le grotte presenti nell'area di Capocaccia e la grotta di Nettuno in particolare presentano peculiarità uniche dal punto di vista geologico, idrogeologico e speleologico, legate all'azione del mare sull'ecosistema ipogeo. Esiste una continua interazione sia a livello dell'atmosfera ipogea che a quello dell'idrosfera della grotta con l'ambiente marino esterno, che rendono il sistema carsico algarese unico nel suo genere. In sintesi spiegano, i sistemi carsici ipogei di Capocaccia costituiscono un sito ideale per poter studiare in maniera dettagliata l'interazione tra il sistema marino e l'ecosistema sotterraneo. Per effettuare questi studi, l'Università di Urbino ha chiesto la collaborazione del gruppo speleologico algarese, che ormai da molti anni esplora e studia le grotte dell'Algherese e le loro parti sommerse, delle quali è profondo conoscitore. Nel 2012 il GEA si è attivato per effettuare il posizionamento di sensori di temperatura all'interno della grotta di Nettuno, in particolare nei diversi laghi presenti all'interno della cavità, fino a una profondità di 62 metri. Nel dicembre 2016 gli speleologi sono ritornati nella grotta per completare il recupero degli ultimi strumenti rimasti e carichi di preziosi dati accumulati nell'arco di 4 anni, posizionati nel lago semilunare, il più lontano e profondo della grotta. Gli speleologi del GEA hanno compiuto immersioni, coadiuvati da alcuni componenti del G-SAS. Durante l'immersione lo speleo sub-algarese Giampiero Mulas ha continuato l'esplorazione degli spettacolari ambienti visti nelle immersioni precedenti, raggiungendo il fondo della cavità a 75 metri di profondità. I primi dati ricavati dei sensori ed elaborati dal professor Marco Menichetti dell'Università degli Studi di Urbino hanno dato risultati molto interessanti e dopo l'elaborazione completa saranno oggetto di una prossima pubblicazione scientifica. Anche nella grotta della Dragunare, in quella verde, verranno posizionati dei sensori nei profondi laghi interni, fanno sapere, così da ottenere un'ampia mappatura delle variazioni di temperatura del sottosuolo sommerso algerese e dell'influenza dell'ingressione marina all'interno delle grotte allagate, presenti nel promotorio di Capocaccia. Un importante e impegnativo progetto mai effettuato prima nel nostro territorio, scrivono ancora. Alla luce dei risultati ottenuti, oltre alla grotta di Nettuno, la grotta verde e la grotta della Dragunara, anche altre grotte minori verranno studiate nei prossimi approfondimenti esplorativi e scientifici del gruppo espeleologico Algarese. Ci fermiamo per un altro break. Come detto si sono conclusi lo scorso fine settimana gli appuntamenti del cartellone Meschium Mestra, gli eventi che hanno animato l'ultima parte del programma, il grande concerto in piazza Pino Piras dal titolo italiani che ha visto protagonisti Carlone, Licalzi e Righiera. Al concerto era presente anche Pino Lignuso, chi ha realizzato questa intervista. Johnson, sei arrivato da Torino e ci hai portato un freddo incredibile, come mai? No, no, c'era già prima che arrivassimo. Come hai fatto stasera a esibirti con i tuoi colleghi? Freddo incredibile. Devo dire, la voce andava un po' per i cazzi suoi, per usare un francesismo, ma sì, non era facile, immagino quanto difficile fosse anche per loro muovere le dita sugli strumenti che peraltro sono di metallo e quindi sicuramente non erano caldi. Diciamo che non è stato, però la gente ha apprezzato parecchio lo spettacolo. L'abbiamo portato a casa, noi se saliamo sul palco scendiamo che abbiamo finito. Senti, quindi adesso tornerai a trovarci qui ad Alghero, magari durante la stagione estiva? Molto volentieri, l'estate scorsa in realtà non ho cantato da queste parti, ma ho fatto una gita per andare a trovare il mio amico Antonello Cucuredu e quindi io vengo qua sempre molto volentieri. Spero di tornarci a fare magari una cosa anche delle mie, con le mie coriste, perché io adesso sono tornato solista e mi esibisco con due bellissime coriste e ballerine, brave e belle e quindi mi piacerebbe tornare. Poi sono in programma, ho fatto già un pezzo con Nevruz, adesso probabilmente ne faremo un altro, lui sta uscendo col suo album, c'è questa nuova collaborazione, ci saranno altre collaborazioni, è l'inizio dell'anno, si sente dal freddo, quindi vediamo di tornare a casa al caldo e cominciare a ragionare. Hai parlato in chiusura di Antonello Cucuredu che abita qua ad Alghero, siete amici, sai che lui si è allargato qua, sta aprendo anche una scuola a calcio, vuoi mandargli un in bocca al lupo visto che ti starà guardando sicuramente? Beh certo che glielo mando, poi glielo mando al telefono. Siete amici, diciamolo, diciamo, siete amici da tanto tempo, torinesi tutti e due, però tu sei del Toro, non sei della Juve se non sbaglio. No, 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 non siamo sbagliati. Non ci mancherebbe altro. Antonello, una battuta. Il mio ex socio era del Toro, ma credo non gli interessi più il calcio, io sono gobbo dalla nascita. Va bene, dai, salutiamo anche gli agresi che ti stanno guardando, con la speranza che torni presto a trovarci. Buon anno e buone cose, buona vita. Grazie. Abbiamo conosciuto anche la sua fede calcistica. È stato un grande successo il 4x4 Alghero Adventures, evento dedicato ai fuoristrada, organizzato dal team Alghero Corsa, è andato in scena la scorsa domenica nei percorsi sterrati fra Montedoglia e Portoferro. Semplici appassionati e professionisti dell'off-road sono arrivati da tutta la Sardegna. I 45 equipaggi in gara, suddivisi nelle due categorie 4x4 elaborati e di serie, hanno affrontato due prove di abilità a tempo imposto sui circuiti predisposti dall'organizzazione e l'escursione turistica nei percorsi di alto livello paesaggistico, il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente per un totale di oltre 50 km. Tra le vetture elaborate, primo l'equipaggio cagliaritano ZZ, a bordo del Defender 90, seguito dalla coppia oristanese Oppo Azzeni, sempre su Defender 90. Terzo l'equipaggio il biese Scano Gaia su Land Rover 110. Per quanto riguarda le vetture di serie, il miglior tempo è stato ottenuto dalla coppia PES-PES su Suzuki Samurai, a seguire Macioccu De Montis a bordo della Panda 4x4 e Bellupirisi su Jeep Renegade. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, in particolare l'ente Forester, il Comune di Alghero e Salvatore Cambule della pista di motocross Alghero. Lazzaretto per oggi è tutto, ora come sempre spazio al meteo, grazie per essere stati con noi e arrivederci.